opportunità 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 ci sono persone che vivono ad aspettarla pensando e come per magia parirà vestita la sposa chiedendoti la mano l'opportunità è anche beffarda e spesso gioca brutti scherzi basti pensare all'intero mercato dei matrimoni che con la pandemia ha subito un contraccolpo tale da fermarsi del tutto portando i suoi strascichi fino ad oggi nel 2020 sono stati celebrati qualcosa come 87.000 matrimoni in meno pensavi di giocarti le tue opportunità non appena si sarebbero presentate ma se non dovessero farlo cosa farai la realtà è diversa amico mio questa volta è una nuova possibilità il mercato dei matrimoni è solo uno tra tanti è solo una goccia in un mare un oceano con milioni di opportunità che esistono ogni giorno a portata di mano ma ciò che ti separa da queste opportunità sei tu devi essere completamente preparato a vederle e ad afferrarle con le unghie con i tempi ci sono fai la tua parte per coglierle e tu sei pronto a cogliere le opportunità